Mancano circa quattro mesi alle elezioni amministrative volte ad eleggere sindaco e consiglio comunale a Trieste. Le premesse sono quelle di una vasta platea di contendenti al ruolo di sindaco, tra schieramenti che hanno il favore del pronostico, civiche inedite che vogliono stupire e ulteriori liste che legittimamente ci provano ma che avranno più difficoltà ad affermarsi. Senza voler togliere nulla a nessuno, verosimilmente la sfida più grossa sarà tra le due coalizioni, quella di centrodestra che ricandida il sindaco uscente Roberto Di Piazza e quella di centrosinistra che dovrebbe essere guidata dal consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. Il condizionale d'obbligo si attende che il fautore di Punto Franco sciolga alcune riserve legate a questioni personali in tempi brevi. Posto che coalizioni a parte al primo turno la schiera dei contendenti sarà nutrita e i singoli partiti o movimenti candideranno una propria figura, sarà al ballottaggio che gli accordi faranno la differenza. Inizialmente proprio nel centrosinistra sotto al candidato sindaco si proporranno i partiti a oggi presenti più alcune novità. Ci saranno il Partito Democratico, Italia Viva, i Cittadini, Open Sinistra e FVG e la novità rappresentata dalla civica Punto Franco avviata proprio da Russo. In caso di secondo turno lo scenario potrà cambiare parecchio. Al carrozzone di centrosinistra, secondo una ricostruzione di fanta politica, lo premettiamo, si potrebbe avvicinare adesso Trieste. Civica giovane con molte idee piuttosto attiva e che punta tanto su sostenibilità e ambiente. Ecco che per loro potrebbe erserci un assessorato ad urbanistica e ambiente, temi che sviluppano con insistenza. C'è anche Futura con Franco Bandelli e Soci. La loro attività è trasversale, dalla cultura alla viabilità, ma l'indole sembra essere quella dei lavori pubblici. I principali attuali attacchi sono contro l'amministrazione attuale, difficile quindi vederli verso il centrodestra, ma tutto può succedere e quindi un assessorato che potrebbe fare al caso loro sarebbe proprio quello dei lavori pubblici, in accordo con il gruppo di centrosinistra. Chi soprattutto potrebbe di certo spostare l'asse al ballottaggio in Movimento 5 Stelle, che nel caso in cui al primo turno non dovesse andar bene, potrebbe appoggiare il centrosinistra ricalcando i recenti trend nazionali. A loro aspetti come ambiente, sociale, verde pubblico, sostenibilità e bilancio sono molto cari. Guarda caso, assessorati in questi segmenti ci sono e potrebbero essere loro affidati. Spunta inoltre la volontà del noto DJ Alex Bini di impegnarsi per la città. Le modalità non sono ancora definite. Forse potrà appoggiare con una sua lista proprio la collizione di centrosinistra già dal primo turno. Tutto questo ovviamente al netto dei risultati che ogni gruppo otterrà. Non si può pensare che una lista che non conquisti tanti consensi possa poi reclamare posti nella giunta comunale. Ogni considerazione qui descrita è largamente mutevole. Lo scenario può cambiare da un momento all'altro. Gli equilibri si possono alterare facilmente. Intanto però una prima cornice a matita scritta in brutta copia, da ciò che si vede e si sente, la possiamo abbozzare.